Sempre più vuoto il carrello della spesa degli italiani. A luglio, secondo l'Istat, le vendite al dettaglio dopo due mesi in positivo segnano un ribasso mensile ma anche una caduta pesante del 3,2% su base annua. Crollano anche le vendite alimentari con una sfilza di segni meno. E così calano gli acquisti di pesce, meno 3,9%, frutta, meno 1,6%. Ma la crisi colpisce non più solo i negozi di quartiere che stanno sempre più chiudendo ma anche i supermercati, gli ipermercati, le grandi catene distributive e addirittura i discount. Per la Conf Commercio occorrono terapie shock da parte del governo altrimenti sono a rischio 33.000 posti di lavoro, oltre 30.000 già persi quest'anno nel settore del commercio. In questo scenario soffre pesantemente il Sud, come sottolinea il rapporto Svimez presentato oggi a Roma tanto che il capo dello Stato napolitano in un messaggio sottolinea come la politica di rigore debba partire dai sceti più abbienti per rilanciare l'occupazione. Dati pesanti evidenzia la Svimez. Nel mezzogiorno la disoccupazione è al 25,6%, cioè più di un abitante su quattro è disoccupato. Inquietanti anche i dati sulla crescita della ricchezza in forte frenata, sulla continua scomparsa di interi comparti industriali nelle regioni meridionali e poi la fuga dal Sud per cercare di lavorare che ci fa ritornare indietro nel tempo. In dieci anni oltre 1.350.000 persone hanno abbandonato le città del Sud con le perdite principali a Napoli e Palermo, forze qualificate e culturalmente preparate che approdano soprattutto a Roma, Milano e Bologna. Basta pensare che anche il tasso di industrializzazione, che è una cosa che ci dà un po' la misura, cioè il rapporto tra detti industriali e il totale della popolazione che già era in divari aumentato e oggi il Sud ha un tasso di industrializzazione che è 60% in meno di quello del Nord. E che non c'è un Sud, ce ne sono molti. Ci sono province dove questi diritti di cittadinanza sono soddisfatti, altre no, comuni in cui lo sono, altri no. e che ci dice che si può fare, perché se c'è riuscito un sindaco o un presidente di provincia ci può riuscire un altro.